Molti pensano che il motto dell'evoluzionismo sia la sopravvivenza del migliore, mentre invece Darwin non diceva, poi il motto non l'ha fatto nemmeno lui, l'ha fatto uno che si chiama Spengson, ma comunque il motto non è che sopravvive il migliore, sopravvive il più adatto, che è una cosa molto diversa, perché se tu vai nella giungla il migliore non è quello, cioè devi pugnalare la gente.